Oggi prepariamo la torta al cioccolato con le tartofili al cocco. Se ami questa combinazione di ingredienti non puoi di certo perderti questa ricetta. È veramente strastragolosa e l'impasto al cioccolato che andremo a realizzare è una nuvola. Di quanto è morbido infatti si sbriciola facilmente, ma vediamo subito come procedere. Oggi prepariamo la torta al cioccolato. La torta al caldo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bene, fammi sapere se questa torta ti ha messo gola, se è così iscriviti attivando la campanellina tut, regalami un like e condividi la ricetta su tutti i tuoi social. Ed io me la vado a mangiare.